Allora, ciao a tutti, siamo qui nel mondo di Maurizio Dominella, notare 4, 5, 6, quante moto ci sono. Questo è il suo piccolo loft, il suo parco divertimento, e noi fra poco lo incontreremo per fargli una piccola intervista. Questa è la sua officina, lo vedete lì in lontananza, nel telefono. Sta organizzando però un viaggetto. Ecco, questo è il suo piccolo mondo. Quindi, preparateli per una video intervista. Saluti a tutti.